Ciao a tutti da Jumpy! Bentornati nel mio canale di pesca! Oggi faremo una nuova ricetta self-made, un mais che promette molto bene, fatto con solo tre ingredienti. Avremo una base di banana fermentata e prendiamo spunto da una ricetta del grande Sergio Tomasella che saluto. Vediamo come fare la ricetta assieme. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!